Ancora tagli per i trasporti, ancora un colpo all'assetto della regione Abruzzo. Se la preoccupazione fino a qualche mese fa era quella di una decurtazione di quasi 8 milioni di euro a causa di obiettivi mancati, secondo i parametri nazionali, a questi si aggiungono altri 2 milioni. La CGL lancia un allarme che ora attende una reazione da parte della regione. Per quelle regioni che non raggiungono determinati obiettivi, tre in particolare, l'incremento dei passeggeri trasportati, l'incremento del rapporto costi-ricavi, il mantenimento dei livelli occupazionali, vengono applicate delle penalità. L'applicazione di queste penalità ha riguardato in particolare le regioni del Mezzogiorno, le regioni del Centro-Sud, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Marche. Non ci sono Sicilia e Sardegna perché sono regioni a statuto non ordinario, a statuto speciale. Per l'Abruzzo questa penalità comporta una riduzione di risorse per ben 8 milioni di euro, a cui se ne devono aggiungere ulteriori 2 milioni di euro per quel taglio ulteriore che c'è stato sul Fondo Nazionale dei Trasporti. Questo comporta una situazione molto preoccupante. Il vero nodo della questione ruota sul concetto che, se la regione Abruzzo non è stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati quando già percepiva i fondi nazionali destinati ai trasporti, dopo una decurtazione così ingente, tenendo fermi i parametri nazionali, sarà quasi impossibile recuperare il terreno perduto. Noi chiediamo innanzitutto che quei criteri attraverso i quali si applicano quelle penalizzazioni vengano profondamente riviste. Tra l'altro ci risulta che in una recente riunione della conferenza Stato-Regioni anche altre regioni hanno chiesto di rivedere quei parametri e quei criteri. Ecco, chiediamo che la regione Abruzzo, la rappresentanza politica in regione e in Parlamento dell'Abruzzo contribuisca a far sì che quei criteri vengano profondamente rivisti perché penalizzano fortemente le regioni, in particolare del Centro-Sud. Grazie. 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 Grazie.